Musica Amiche e amici di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Casa Rossini. Oggi abbiamo un ospite col quale parleremo di tante cose. Abbiamo con noi il direttore di Banca di Pesaro, Paolo Benedetti. Buongiorno, direttore. Buongiorno, buongiorno Paolo. Come stai Paolo, bene? Stai bene, bene, grazie. Insomma, tutto in linea nonostante il momento. Esattamente. Perché proprio di questo parliamo, Banca di Pesaro, Banca del Territorio. E noi vogliamo, proprio col direttore di questa banca, la Banca del Territorio, fare un ragionamento che inserisca il nostro territorio nel contesto e nel panorama nazionale e anche internazionale. Oggi facciamo discorsi alti, insomma. Questa situazione, mi piace l'idea di provare a sentire, insomma, cosa ne pensi di questa situazione. L'Italia che vive questo momento, che da più parti ci dicono essere un momento di recupero. Qualcuno che ci starà ascoltando a casa in questo momento guarderà nel suo portafoglio e dirà ma questo recupero quando comincia? Perché in effetti ne stanno parlando in tanti, però poi sostanzialmente questo recupero è un recupero che ancora noi non vediamo nella nostra quotidianità. È un recupero reale? È ancora solo un'ipotesi? Come si riverbererà e quando, insomma? Sicuramente più di un'ipotesi perché effettivamente le imprese stanno tornando a investire. Stanno tornando a investire, questa è una condizione fondamentale per accelerare nella ripresa e trasformare questo rimbalzo che diciamo che ancora siamo all'inizio, farlo dare in maniera strutturale per dare continuità agli investimenti che le aziende veramente stanno tornando a fare. investimenti che sono dovuti anche grazie agli importanti interventi governativi che sono susseguiti nel corso degli ultimi due anni e che hanno trovato veramente sfociati in cose fondamentali per le aziende. E poi non da ultimo, chiaramente non dobbiamo sprecare questa grande opportunità che è il PNRR, questa famosa sigla che è diventata negli ultimi anni, lavoriamo per sigle, però questo piano nazionale di ripresa e resilienza è fondamentale per l'Italia e non dobbiamo sprecarlo. Non dovremmo sprecarlo, sicuramente non lo sprecheremo perché sicuramente l'uomo che in questo momento al governo guida e che ha un'importanza internazionale, un riconoscimento internazionale saprà al meglio tradurre nei fatti concreti questi grandi soldi che arrivano sul mercato nazionale. E qui un ruolo fondamentale lo avranno le banche, le banche e le imprese che insieme dovranno coniugare e sviluppare i progetti per far sì che poi il tutto si trasforma in una crescita sostenuta del PIL, che è un'altra sigletta, questo famoso PIL prodotto interno lordo che sta andando a gonfie vele. È chiaro che stiamo riprendendo quello che purtroppo abbiamo perso nel corso degli ultimi anni, però pensiamo di dargli anche una crescita strutturale e costante nel tempo. Certo, ripartire da sotto zero, diciamo che era il minimo, eravamo arrivati a un livello talmente basso e negativo che recuperare era il minimo. Voi siete banca per imprese, ma siete anche banca per i privati, per cui diciamo che questa sensazione la percepite anche dal privato oppure per adesso il tuo osservatorio ti dà solo indicazioni dalle imprese? No, hai toccato un altro tema molto importante che è quello dei consumatori, le famiglie. Comincia a ritornare anche una fiducia nelle famiglie, tutta condizionata però purtroppo da questa pandemia che ha ripreso un trend chiaramente non ai livelli degli anni passati, perché grazie soprattutto alle immunizzazioni che i cittadini, anzi qui secondo me è fondamentale che ognuno di noi continui ad essere responsabile, perché altrimenti mettiamo a rischio gli altri. Quindi qui chiamo anche una responsabilità importante da parte di tutti noi, di cui la scienza ci ha messo a disposizione un vaccino in tempi fondamentale rapidi, non sono assolutamente un esperto del settore, ma qui veramente io ritengo che abbiamo fatto un lavoro straordinario e non dobbiamo sprecarlo, perché altrimenti diventerà dura ripartire per una quarta ondata, vorrebbe dire definitivamente forse rimettere in crisi tutto quello di buono è stato fatto. Praticamente l'idea è che appunto il tutto si basi su un rilancio di fiducia che dovrebbe e che deve arrivare dopo un periodo in cui la paura è stata tanta. La paura è stata iniziale, poi è stata rilanciata quando sembrava già che tutto fosse superato. Adesso c'è questa attenzione di cosa dobbiamo avere paura in realtà? Dobbiamo avere paura solo forse di noi stessi, se non siamo in grado di mettere in campo tutte quelle azioni necessarie per prevenire, per prevenire poi chiaramente tutti gli interventi che sono stati fatti da parte delle associazioni, da parte anche delle strutture sociali che molte volte lavorano dietro le quinte ma che sono state fondamentali per far rilanciare il nostro paese. Qui è stato bravo sicuramente chi è già guidato negli ultimi anni, che ha capito quali sono veramente i fattori determinanti per la ripresa soprattutto economica ma soprattutto anche una ripresa sociale perché non dimentichiamoci che c'è un altro tema importante che è la povertà perché questo qui rischia una crisi pandemica del genere a fare una divisione ancora importante tra le classi sociali. Ricordando che adesso indicativamente ci sono circa 5 milioni di poveri nel mondo e noi molte volte ci preoccupiamo se mille novax si fanno noci, fanno impazzire o mettono in crisi il nostro weekend perché poi bisogna dire anche queste cose qua. Quindi un'altra cosa sulla povertà sicuramente nel tempo qualcosa bisogna fare e i fondi europei che stanno arrivando vanno anche in quella direzione però come dicevo poc'anzi non sprechiamoli perché altrimenti non arriva nulla e le banche avranno un ruolo fondamentale secondo me, soprattutto le banche di territorio. Il governo Draghi ci dà fiducia diciamo in qualche modo soprattutto per la figura di Draghi stesso che quando parla in ambito internazionale ha una sua credibilità e soprattutto parla la stessa lingua anche proprio la lingua, l'inglese che viene capito insomma senza bisogno di essere interpretato e viceversa lui capisce esattamente cosa gli dicono gli altri. Il governo precedente aveva subito tempestivamente coinvolto le banche con tutto il discorso dei mutui e quel discorso lì va avanti ancora? Si è fermato? È stato sufficiente? No, sicuramente sono stati determinanti quegli interventi così celeri nell'individuare quali potevano essere le prime forme di permettere un'argine a questa grave crisi prima sanitaria che poi si è riverberata chiaramente anche economica. Le moratorie, se si fa riferimento, chiaramente le moratorie che hanno potute usufruire sia le famiglie che le imprese hanno avuto una proroga fino al 31 dicembre 2021 ma già dal 30 giugno molte, almeno nel nostro caso, molte aziende sono ripartite a pagare con regolarità i propri mutui, le famiglie lo stesso sono riuscite, stanno riuscendo a pagare adeguatamente i propri impegni perché poi ricordiamoci che l'Italia è stata uno dei principali paesi in cui queste cose ce le siamo subito sentite e abbiamo un gran senso di responsabilità. Non è vero che ce ne freghiamo e quant'altro, invece i debiti vengono sempre onorati e c'è questa forte responsabilità e anche di coinvolgimento tra le strutture e le famiglie e le imprese soprattutto. Per quanto riguarda è chiaro che poi sono arrivati tantissimi soldi perché bisogna essere obiettivi che grazie alle garanzie statali, qui il precedente governo è stato anche qui lungimirante andando ad ampliare le linee di garanzia per il famoso Medio Credito Centrale che è una garanzia pubblica con degli interventi strutturali sul fondo dove prima c'erano dei paletti più o meno rigidi e dopo sono stati allargati, chiaramente non è che vengono dati i soldi così senza ritorno perché poi il merito creditizio va sempre valutato perché io dico sempre, soprattutto per una BCC raccogliamo sul territorio e investiamo sul territorio, quindi ci mettiamo alla faccia giustamente e qui le garanzie hanno dato una grossa mano, le aziende hanno fatto un giusto utilizzo della liquidità e quant'altro. Insomma voglio dire, scusami, tenete il fiato adesso in attesa di vedere cosa succede quando finisce il preammortamento? Ricordiamo che la gran parte, tutti i mutui che sono stati concessi con la garanzia dello Stato prevedevano un periodo molto lungo, due anni, di preammortamento durante il quale sostanzialmente le rate erano limitate a un conto interesse da qualche decina di euro al mese, solo che adesso fra un altro anno scadono, no, no, sì, fra due, fra due scadono e trattenete il fiato in attesa di scoprire cosa succederà quando sarà ora di pagare le rate vere oppure siete fiduciosi e dormite sereni? Allora, siamo fiduciosi perché non deve mai mancare la fiducia che dormiamo sereni un po' di meno nel senso che effettivamente hai toccato un tasto, sembra una cosa molto tecnica ma hai toccato un tasto fondamentale, questi mutui sono in preammortamento e con i tassi così bassi, addirittura bassi tassi molte volte che rasentano come si dice allo zero e sono negativi e non si sente, è come dire, vabbè, ho quel mutuarello, 25 euro al mese e un caffè, diciamo, no, una cena al ristorante, quando partono, dopo partono il piano di ammortamento li bisogna ricominciare a rimborsare anche il capitale, però siamo fiduciosi soprattutto sul lato imprese che questi soldi sono stati ben spesi e soprattutto sono stati investiti nei progetti industriali e nei piani di sviluppo per rimettere in moto proprio tutto il processo produttivo. L'altro fatto importante è che tutti questi bonus che sono arrivati per il settore, soprattutto sul torre dell'edilizia, super bonus, bonus facciate e quant'altro, questo giustamente qua ci hanno, qualche regola in più la stanno inserendo perché effettivamente si rischiava di avere un'altra volta una bolla speculativa che non possiamo sul mondo dell'edilizia, che non possiamo assolutamente correre, anche se ha dato una grossa mano perché ha fatto ripartire un po' tutto il motore e il cuore dell'economia che io dico sempre che l'edilizia è il cuore perché poi non è che c'è solo, diciamo, tiri su con la casa i mattoni, i loro ristrutturi, poi ci lavora tanta gente di servizi collaterali, soprattutto tanti artigiani che sono la nostra principale struttura. Visto che ho toccato questo tasto delicato, la domanda viene spontanea, come sta la banca in questo momento, come sta Banca di Pesero? Guarda, adesso chiaramente con tutti gli sconciuri, Banca di Pesero sta bene, è una banca in salute, con l'entrata a far parte del gruppo bancario cooperativi CREA ci siamo rafforzati perché anche qua su gli investimenti importanti, che è un altro tema, è chiaramente il green, i principali uomini, i politici sono incontrati una quindicina di giorni fa e hanno toccato questo tema che è veramente importante perché mette anche a rischio determinate proprio la parte sociale e il cittadino. E qui con tutti questi nuovi, facendo parla del gruppo, riusciamo anche noi ad avvicinarci sempre più ad un mondo, diciamo, prima riservato ai grossi gruppi bancari, ad oggi non è più così perché la BCC ha un doppio vantaggio, uno è di essere banca del territorio, quindi capace di conoscere le esigenze della comunità, secondo avendo adesso anche un gruppo ti puoi fare quegli investimenti che in passato forse si riuscivano a fare con più fatica. Anche noi stiamo facendo una politica di derisking, nel senso che i crediti problematici nel corso degli ultimi anni sono stati analizzati, strutturati, molte volte anche purtroppo passati aperti, però vuol dire che il bilancio di banca di Pesero è un bilancio discreto che tende a come si fa a scuola sul buono e io penso che le prospettive future non possono essere che positive e soprattutto una banca che può tranquillamente gestirsi la dimensione come siamo ad oggi, non c'è bisogno di fare operazioni straordinarie o quant'altro, l'importante è che la dimensione è importante, è chiaro che entri in gioco, però deve essere ben analizzata all'interno delle strutture delle governance, delle banche, delle BCC. Hai toccato il tasto green, le imprese capiscono che tutto quel discorso lì è una priorità oppure ancora lo considerano una bella scocciatura? Sì, no, cominciano ad entrare nell'ottica dell'idea che è importante anche per loro affrontare il tema, ma non solo perché hanno capito benissimo che per fare determinate azioni di sviluppo, il prodotto di pianificazione, questo è un tema che non possono dimenticare nei loro piani satellici e qua forse l'azienda deve fare un salto di qualità nella capacità di pianificare, cioè il livello aggiornato non va più bene, fare una pianificazione, adesso che alla scuola ci hanno insegnato a 5 anni, che è una cosa che penso che è impossibile perché non sappiamo cosa potrebbe succedere tra un mese, però un minimo di pianificazione e qua si devono anche fidare, passatemi il termine, degli istituti di credito che un polso della situazione ce l'abbiamo e soprattutto siamo in grado anche di affrontare assieme quali sono le forme tecniche bancarie adeguate per fare determinati sviluppi futuri per l'azienda. Perché poi non dimentichiamo che una banca è un'impresa del territorio, a tutti gli effetti, cioè voi siete sul territorio e siete un'impresa del territorio, alla pari con le imprese che affiancate, tant'è vero che poi tutto questo discorso per esempio che si percepisce di affiancamento alla pubblica amministrazione per quanto riguarda le iniziative, di sponsorizzazione di manifestazioni, fa parte tutto non solo di una logica commerciale per far girare il marchio, per capirci, ma fa parte anche proprio di un sostegno alle attività del territorio. Sì, adesso mi dico, siete rimasti l'unica banca del territorio, ecco che arriva una marea di contributi, sponsorizzazioni, questa è una battuta, ma invece noi siamo molto contenti di essere partner di iniziative chiaramente importanti, poi secondo me perché Paolo, Paolo quando si propone le cose hanno uno spessore di non poco conto, poi chiaro poi ti arriva anche quelli di meno importante che però vanno sostenuti perché poi ci sono delle iniziative, l'ultima che abbiamo fatto, quella del Green Tour, che tu conosci benissimo e quindi veramente quando ce l'hanno proposta non ci abbiamo pensato come si dice un attimo per dire ok la banca c'è. Certo, certo e sono tante le iniziative anche nelle quali voi affiancate la pubblica amministrazione, nelle quali affiancate le attività di Rossini TV che è sicuramente un'altra, impresa del territorio, cioè c'è questa sorta di trasversalità tra essere impresa che aiuta le imprese, ma che comunque si trova anche sul territorio, per cui c'è questa specie di partita di giro che fa crescere in maniera virtuosa il capitale investito poi, no? Perché l'idea è quella. Sì esattamente, infatti adesso si parla molto di economia circolare e questa è l'economia circolare in cui ci sono tanti attori collegati, connessi e sarebbe un errore che se queste connessioni non fossero gestite al meglio poi succede che il risultato finale ne potrebbe beneficiare. Io dico comunque un'altra cosa importante, la banca come dicevamo all'inizio deve rispettare dei vincoli di sana e prudente gestione, perché questo è fondamentale, la prima cosa che ti insegnano quando entri in banca è che ricordati che c'è sempre delle regole di vigilanza prudenziale che fino a qualche anno fa erano a livello nazionale, la banca d'Italia che ancora esiste, chiaramente c'è un ruolo fondamentale, anche loro l'istituto di vigilanza nazionale, Consob, ma soprattutto siamo vigilati banca centrale europea e questo però da una parte rassicura e da un'altra parte crea tanti vincoli normativi alle banche in genere e noi chiaramente non siamo esentati. Ci piace sempre ricordare che quando parliamo di banca del territorio e quando parliamo di storia parliamo di qualcosa nato nel 1906 da un accordo tra rurale, tra i contadini che si erano messi insieme, per cui uno potrebbe anche pensare, sì ho capito la banca che in qualche modo ha la sua storia, però no, però niente perché poi c'è un grande slancio verso tutte le cose più moderne. Se voi andate a vedere il sito, e io ogni tanto mi diverto di andare a vedere il sito di Banca di Pesaro, vedete che sono sempre, come si dice, con un gergo bruttissimo sul pezzo, nel senso che sono pronti a sposare subito, dopo averle verificate, le innovazioni più recenti, insomma dal sito si vedono tutti questi sistemi di pagamento nuovi, alcune cose anche che uno dice, boh cos'è, già lì c'è, tutte queste forme di pagamento speciale. Un'altra cosa interessante che ho visto sul sito è quest'idea dei soci, perché non dimentichiamo che la figura del socio di una banca come la vostra è una figura importante. Ah, è fondamentale, infatti la cooperativa vive chiaramente i soci e i clienti, ma la figura del socio è determinante, perché poi può partecipare alla vita proprio della banca, scambiando e indirizzandone i pensieri e quale potrebbero essere anche gli sviluppi futuri, perché no, con un contatto diretto sia col consiglio dell'amministrazione e con la stessa direzione e quant'altro. Il socio è il fulcro, è il perno dello sviluppo anche futuro delle BCC, che come avete visto non scompariranno, anzi secondo me in futuro avranno sempre un ruolo fondamentale e importante. Come importanti sono poi i grossi gruppi bancari che hanno anche loro un ruolo, ma forse anche differente per assistere poi a determinati settori economici o gruppi economici che hanno necessità di avere come interlocutori sia la piccola banca, ma soprattutto anche il grosso istituto. Però una comunità locale non può prescindere da una banca di credito cooperativo e nella testimonianza la Germania e anche negli Stati Uniti, perché non è che poi non vediamo questi Stati Uniti, poi alla fine anche le banche locali statunitensi hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo del paese, ma soprattutto c'è sempre il mio esempio principale, la Germania, dove sono piccole, interconnesse, con una particolare forma di garanzia tra le stesse, che però le rendono veramente solide e la Germania è anche loro un paese, chiaramente in questo momento vivono anche loro un momento molto particolare, ma di sviluppo. E l'Italia non c'è niente da invidiare, anzi abbiamo il bel paese, abbiamo il turismo, abbiamo l'industria, abbiamo tutto, abbiamo anche un sud, un mezzogiorno veramente molto molto bello che va anche qui riscoperto e forse investito e qui le BCC che conosco alcune realtà stanno facendo veramente un gran bel lavoro. Paolo, siamo quasi in chiusura. Ci sono delle parole che ultimamente, una volta erano di moda e ultimamente sarebbe meglio accantonare, per esempio quando si parla di diffusione virale io lo eliminerei. Un'altra parola che una volta si usava e che adesso forse fa più impressione è l'iniezione di fiducia, però comunque diamola un'iniezione di fiducia in questi ultimi minuti e cerchiamo di chiudere lasciandoti la parola per questa iniezione di fiducia nei confronti dei nostri telespectatori. Guarda, l'iniezione di fiducia è innanzitutto che potete contare chiaramente sul sostegno della BCC, sulle professionalità all'interno della banca che rappresento, perché veramente ho dei colleghi che nel corso degli anni sono cresciuti tantissimo e non vi nascondo che negli ultimi anni questo ci ha rafforzato nel capire, nell'affrontare le esigenze di mercato. E poi un'altra iniezione di fiducia, cerchiamo veramente di dare seguito a quelle regole che ci sta dando il mercato, a quelle che ci sta dando la società, in questo momento è fondamentale non mettere a rischio gli altri, quindi richiamo un senso di responsabilità anche a fare determinate situazioni, determinate cose, che probabilmente tra un po' diremo l'abbiamo fatto, ci lasciamo alle spalle un bruttissimo momento e siamo pronti per ripartire. Bene, allora amici e amiche di Rossini TV, ringraziamo tutti quanti per aver seguito questa puntata di Casa Rossini e ringraziamo naturalmente il nostro ospite di oggi, il direttore di Banca di Pesaro Paolo Benedetti che ci ha illustrato secondo me in maniera molto comprensibile, molto chiara la situazione e vi diamo appuntamento a una prossima puntata di Casa Rossini, restate sempre con i programmi della nostra emittente. Ancora grazie Paolo. Grazie a te Paolo, grazie. Grazie a te Paolo! Grazie a te Paolo! Grazie a te Paolo! Grazie a tutti.